Catania, prima città del mezzogiorno e seconda d'Italia ad aver realizzato e completato una rete completamente in fibra ottica. Questa mattina a Palazzo degli Elefanti l'amministrazione comunale insieme ai vertici di Open Fiber hanno presentato i dati di cablaggio della città. Con meno di due anni fa firmai alla presidenza del Consiglio insieme ai sindaci di altre quattro grandi città italiane un protocollo di collaborazione che ci avrebbe consentito di cablare in modo moderno e funzionale tutta la nostra città. Abbiamo adottato una scelta di collaborazione con Open Fiber designando un responsabile unico del procedimento e cioè una interfaccia con cui Open Fiber poteva dialogare per procedere rapidamente. Grazie a questo siamo la seconda città in Italia che completa questo processo dopo Perugia, siamo la prima città del sud e questo offrirà a Catania una straordinaria potenzialità perché una città cablata in modo adeguato come oggi è Catania è una città più competitiva sia dal punto di vista dei cittadini sia dal punto di vista delle imprese che scelgono di allocare i loro insediamenti in città che offrono tecnologia adeguata. Sono felice che questo risultato sia stato raggiunto proprio qui a Catania. Siamo particolarmente contenti oggi di annunciare il completamento della copertura in fibra della città di Catania. È un risultato importante che abbiamo completato dopo circa 18 mesi di lavoro e che sancisce di fatto l'efficacia del modello messo a punto da Open Fiber di collaborazione pubblico-privato con il territorio per lo sviluppo di una rete ultra broadband a servizio delle aziende e a servizio della popolazione. Di fatto abbiamo coperto 120.000 unità immobiliari quindi tutto il territorio della città abbiamo investito circa 30 milioni su questa area geografica e questo piano di investimento si inserisce in un piano più ampio di investimento che Open Fiber sta portando avanti su tutto il territorio italiano e che vede nella Sicilia un importante punto di partenza. Cosa faremo nei prossimi mesi? Sicuramente andremo avanti nella copertura dell'Interland quindi dei quartieri che sono intorno alla città di Catania perché vogliamo ulteriormente estendere la copertura e vogliamo sicuramente avviare le attività di commercializzazione insieme ai nostri clienti partner Vodafone e Wind in fase iniziale ai quali si avvingeranno altri operatori per iniziare ad offrire i servizi di connettività alla cittadinanza. Grazie a tutti.